La festa della Immacolata Concezione Oggi è una giornata importantissima, lei è il delegato di Malta? Il delegato di Malta, sono qui a rappresentare anche io l'ordine in Malta e niente, siamo questa celebrazione, siamo emozionati tutti. Siamo qui per l'Immacolata Concezione, oggi 8 dicembre, è una giornata bellissima perché finalmente la nostra campagna di solidarietà ha preso il volo, è andata proprio in altri continenti, siamo riusciti a fare un banco alimentare per gli Stati Uniti, in Brasile, in Portogallo, a Malta, in Sicilia, in Calabria, in Campania abbiamo scaricato circa mille chili di pasta in tutte queste iniziative e tutto questo nel segno di Francesco II, del servo di Dio, sempre vicino a chi soffriva. Prossimo alla beatificazione? Speriamo, è un po' presto ma insomma il cammino è lungo. Campania del Marchese San Felice, Marchese aderito da poco mi è parso di capire a questa straordinaria organizzazione. Sì, naturalmente l'Associazione Francesco II ha una tradizione alla quale non ho voluto far mancare la mia partecipazione. Grazie. Grazie.